Natale che è sempre più vicino e quest'anno con te per farti fare bella figura con dipendenti, amici e parenti c'è Food Loop. Quindi regala il cesto natalizio di Food Loop. È un cesto personalizzato per ogni gusto, una gioia per gli occhi, ma soprattutto per la gola. Compone il cesto con i prodotti che vuoi regalare, confezionalo come meglio preferisci e Food Loop lo consegnerà entro tre giorni lavorativi. Puoi anche andare nel loro showroom di Cassano Magnago in via Cellini dodici e scegliere tra cesti dolci o salati, abbinati con vine spumanti, con specialità provenienti da tutta Italia, come anche con anche le loro bollicine prodotte proprio da loro Food Loop. Si chiamano novecento wine e sono ideali per festeggiare nel migliore dei modi le feste natalizie. E poi nei cesti potete metterci, puoi metterci olio, pasta, sughi pronti, panettone, salame, salmone, puoi metterci quello che vuoi tu con la garanzia della qualità dei prodotti esclusivi se 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 selezionati ovviamente per te direttamente da Food Loop dai migliori produttori italiani. Food Loop, fare felici quindi a Natale i tuoi cari, i tuoi amici, i tuoi dipendenti, come dico sempre io, fare felice anche te stesso e anche il tuo portafogli. Trovi tutte le loro proposte online sul sito www.foodloop.it. Per prenotazioni veloci potete chiamare o inviare un messaggio WhatsApp a questo numero tre quattro sette trecentotrenta cinquantacinque undici. Food Loop, è già Natale. Millennium.